Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto energia introducendo una serie di importanti misure per un totale di circa 1,3 miliardi di euro a beneficio delle famiglie italiane. Vediamo insieme i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Per chi vuole come sempre è possibile abbonarsi al canale schiacciando il tasto abbonati e donare una piccola cifra per continuare a supportarci. Partiamo subito con il video. Il Consiglio dei Ministri ha recentemente dato il via libera al decreto energia introducendo una serie di importanti misure per un totale di circa 1,3 miliardi di euro a beneficio delle famiglie italiane italiane. Queste misure mirano principalmente a contrastare l'aumento delle bollette energetiche e a fornire supporto ai trasporti. Tra le principali iniziative spiccano la proroga e il potenziamento delle azioni contro l'aumento dei costi delle bollette dell'energia per le famiglie. Inoltre è previsto un sostegno specifico per i trasporti. La social card dedicata a te sarà estesa per consentire l'acquisto di carburante. Un bonus per il carburante sarà caricato sulla stessa carta per le famiglie con almeno tre membri e un ISEE fino a 15.000 euro. L'importo di questo contributo sarà determinato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto ma si prevede che possa ammontare a circa 80 euro. Inoltre si rafforza il contributo per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro o 30.000 euro con almeno quattro figli che già beneficiano del bonus sociale per le bollette di luce gas. Questa misura verrà ulteriormente potenziata nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno con un budget di circa 300 milioni di euro in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La Rera sarà incaricata di definire l'entità esatta del contributo suddividendolo in tre rate in base ai consumi attesi. È importante notare che nel quarto trimestre dell'anno gli oneri di sistema sul gas saranno azzerati. La fornitura di gas metano per usi civili continuerà a beneficiare di una liquota IVA agevolata al 5%. A partire dal 1 gennaio 2024 ci saranno modifiche significative nel sistema di supporto all'impresa ad alto consumo energetico. Gli oneri che queste imprese sosterranno per il sistema elettrico saranno calcolati come la percentuale più bassa tra un valore variabile tra il 15 e l'80% degli oneri per il sostegno delle fonti rinnovabili e una percentuale tra lo 0,5 e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa. Gli oneri diminuiranno se l'impresa coprirà almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica da fonti a zero emissioni. Infine per il 2023 il fondo per il bonus trasporti sarà incrementato di 12 milioni di euro contribuendo così a sostenere ulteriormente le necessità legate ai trasporti nel paese. Queste dunque le novità approvate. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti del video. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie a tutti.